Le gambe Sono un po' coperte Le puoi scoprire? Aspetta Irina Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta un attimo Irina Come si dice scoprire? Rasdinsa Rasdinsa Natascia, resghinsca la gamba Resghinsca la gamba Non mi ha mai fatto offendere qualche parente Ah no, meno male Resghinsca la gamba L'ombelico, l'ombelico di chi? Vediamolo Oh, non ce ne vogliano quelle che non sono prescelti Federica Paricucci Voglio vedere l'ombelico della Paricucci Vieni, vieni, vieni Ma cos'è? C'è il lucchetto Sarà un belico con piercing nel 2000 o senza? Chissà Con ciondolo o senza? Con ciondolo Tutti in accordo con il ciondolo Vediamo dopo l'ombelico il sex appeal Il sex appeal di... 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 Claudia Gerini È lei È lei È il sex appeal È lei È lei Come facciamo ora a inquadrare il sex appeal? Infatti, è quello che ti volevo dire, Carlo Dovresti aiutarci Io non so come inquadrare il sex appeal Come si fa? Il sex appeal è nello Dove si trova? Qui Eh, fai, fai... Non lo so, ditemi voi Un'idea... Inquadra me, te lo faccio vedere io Io guardo lei e si capisce il sex appeal Eh? Va bene, va bene, va bene Guardate... Vediamo come hai fatto Lo puoi rifare, signor Ciacchi Seconda, vai Va, sono rimasto così Adesso guardiamo il fondoschiena Di chi? Chi ha scelto il computer? Roberto Eh, scusa Vieni, Roberto, vieni qua No, no, non lo inquadriamo Non lo inquadriamo Non lo inquadriamo Non lo inquadriamo Mi pare tuo marito leggermente geloso Vabbè, almeno quello No, no, cosa... Non lo inquadriamo Tipo... Non lo inquadriamo Ma ha fatto le ragazzine Non è per me Io ho il te che è il te che è il te Non lo inquadriamo No? No, tranquillo Non lo inquadriamo Già fatto, eh Già fatto Come già fatto? Già fatto Già fatto Ma come? Già fatto No, non è possibile in figura Andiamo avanti per concludere Il seno Vediamoli chi? Manuel Arcuri Oh, e non è che ce ne posso fare? Tieni, tieni Devo dire che... Ecco, sì Vabbè Il seno Di Manuel Arcuri Adesso Oh, devo dire che il computer Veramente ha avuto molta, molta difficoltà Per selezionare loro Quindi credo che le altre Doverosamente facciano un applauso A tutte le altre che non sono state scelte dal computer Ma Potevano benissimo essere qui al posto loro Però il computer ha scelto questo Adesso Ecco la cosa bella Con i vostri elementi Il nostro computer farà un'elaborazione E tirerà fuori il volto E la composizione Mentalmente incatenata